La bellezza del celebrare un incontro con Dio e con il prossimo è questo il tema che farà da filo conduttore alla 73esima settimana liturgica nazionale, oggi a Chiavari, l'apertura. Continua la fase di maltempo in Liguria, intense precipitazioni sul Levante in mattinata con locali allagamenti, nelle prossime ore pioggia in calo ma attenzione alle condizioni del mare. Gesù non è un personaggio storico ma il Dio del presente, così il Papa L'Angelus e poi la preghiera per le vittime degli incendi in Grecia e per i morti della guerra in Ucraina. Partiti alla volta di Roma i 257 cresimati della Diocesi di Chiavari, tre giorni di pellegrinaggio per incontrare Papa Francesco, previsti anche incontri e testimonianze. Non solo western, concerto tributa degno morricone del corpo bandistico città di Lavagna, piazza della libertà gremita di persone celebrati quest'anno i 170 anni di vita del gruppo. Buongiorno ai telespettatori dell'ETG Telepace. Con oggi si aprono i lavori della 73esima settimana liturgica nazionale, l'appuntamento che si svolge tradizionalmente in una diocesi italiana diversa. Quest'anno avrà come sede proprio Chiavari. Gli appuntamenti saranno ospitati principalmente nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e avranno il tema bellezza e verità del celebrare cristiano. Vediamo i dettagli nel servizio. Un tempo privilegiato per offrire a tutti gli operatori pastorali l'occasione di approfondire la ricchezza della liturgia. È da queste basi che si muove la settimana liturgica nazionale che nell'edizione 2023 avrà come sede Chiavari. Questa settimana nasce come desiderio proprio di aprire i tesori della riforma liturgica, quindi del Concilio Vaticano II, perché potessero arrivare davvero a tutto il popolo di Dio. Due le caratteristiche principali della settimana, muoversi tra le diocesi per favorire l'incontro tra diverse realtà ed essere aperta a tutti. Quest'anno quando parliamo di riscoprire la bellezza del nostro celebrare è qualcosa rivolto a tutti, dal prete che presiede la celebrazione all'ultimo fedele che non assiste alla messa ma fa la sua parte. Il tema della bellezza sarà declinato nei vari ambiti della liturgia con semplicità e nobiltà. L'azione liturgica, ricorda Monsignor Maniago, non è uno spettacolo ma celebra la bellezza di un incontro. Col Signore questa è la cosa più importante. Se lui ci ha detto fate questo in memoria di me, ce lo ha detto perché con quel rito noi ci mettiamo di fronte a lui, dialoghiamo con lui, lo incontriamo. Ma al tempo stesso noi scopriamo la bellezza della fraternità cristiana. Per quattro giorni i circa 200 delegati avranno l'opportunità di ascoltare e di incamerare idee da approfondire ciascuno nelle proprie realtà con rinnovato entusiasmo. Io spero anche, davvero lo chiedo con grande convinzione anche al Signore, che sia un'occasione di grazia anche per questa diocesi, per questa terra. E poi davvero mi auguro non tanto parlare di successo della settimana, ma che questa settimana abbia di nuovo posto all'attenzione di tutti la bellezza del nostro celebrare. Una bellezza che non è estetica ma nasce dall'incontro. Dunque i lavori della 73 settimana liturgica nazionale si aprono oggi, questo pomeriggio alle 17 con la celebrazione d'apertura presieduta dal Monsignore Claudio Maniago. Alle 18 i saluti istituzionali, alle 18.30 la prolusione di Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti Vasto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta, in tv, su Telepace al canale 12. Voltiamo pagina il maltempo. La Liguria in queste ore è interessata da una perturbazione importante con intense precipitazioni, soprattutto nell'area del centro levante, che hanno misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore. Non si registrano feriti, ma sono stati più di 200 gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio regionale, concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa degli allagamenti. All'alerta è arancione, la chiusura è prevista intorno alle 15, se non ci saranno ulteriori aggiornamenti da parte di Arpal. Arpal e intanto facciamo il punto proprio con il dirigente Arpal. La parte più organizzata di questo passaggio perturbato è fortunatamente alle nostre spalle. Avremo però ancora davanti diverse ore di attività temporalesca dovuta all'instabilità che interesserà ancora la nostra regione, almeno tutta la giornata odierna. Quindi ancora per oggi bisogna prestare attenzione. In questo momento una struttura temporalesca molto attiva sta esistendo sul levante Ligure, in particolare nell'estremo levante nella zona di Sarzana ha scaricato oltre 60 mm in un'ora, si sta spostando verso il Golfo del Tiguglio e su Rapallo e Santa Margherita siamo già con precipitazioni moderate. Ricordiamo che il territorio del settore centrale della regione è già stato interessato pesantemente dalle precipitazioni di questa notte e quindi risponderà in maniera più repentina, non con quella capacità mostrata invece questa notte di assorbire l'acqua caduta dal cielo. Nella notte più colpito il capoluogo Ligure, anche Rapallo, nella mattinata di ieri, sono verificati i locali allagamenti. Ieri tra mezzogiorno alle due questi fenomeni prefrontali hanno iniziato proprio a interessare il monte di Portofino, Santa Margherita e Rapallo e lì abbiamo avuto cumulate orari nell'ordine dei 59-62 mm che hanno dato luogo ai primi allagamenti. Poi questa prima struttura si è spostata verso Levante e dalla serata questa nuova attività temporalesca molto molto intensa accompagnata da tantissimi fulmini che hanno illuminato a giorno la notte appena trascorsa ha fatto sentire i suoi effetti sul settore centrale. Su Genova si è spostata in un primo tempo verso Ponente, poi è come se fosse rimbalzata sul Levante, nuovamente ha interessato Rapallo all'ambito Chiavari ed è tornata di nuovo verso Genova prima poi di allontanarsi lungo la Valle Scrivia e oltre ai giorni. Quale sarà l'evoluzione delle prossime ore? Attenzione particolare anche al mare. E quest'oggi si mantiene questa instabilità dovuta proprio all'azione di questo minimo. Minimo che sembra essere un po' meno profondo rispetto a quanto diagnosticato dalla modellistica ieri ma comunque ha degli impatti per quanto riguarda i venti. Già stanotte abbiamo misurato delle raffiche a 180 km all'ora a Fontana Fresca, sopra Sori e anche questa sera avremo nuovi ingressi rafficati molto molto intensi. E attenzione anche al mare. È prevista infatti una mareggiata soprattutto sulle coste del centro Levante. E il Comune di Chiavari ricorda che su tutto il territorio è in vigore il divieto di balneazione, il divieto di accesso a spiagge e luoghi attivi alla battigia proprio a causa dell'avviso il meteo per mareggiata intensa diramato da Arpal per la giornata di oggi. Inoltre i proprietari gestori degli stabilimenti balneari e delle strutture presenti sul litorale hanno l'obbligo di assicurare le attrezzature e le parti mobili come riporta l'ordinanza firmata dal sindaco. Andiamo avanti, voltiamo pagina al Papa. Adesso Gesù non è un personaggio storico ma il Dio del presente. Così Francesco Allangelus che ha invitato tutti a chiedersi Gesù è davvero vivo nella mia vita? È il mio Signore? Vediamo il servizio. Gesù non è un ricordo del passato ma è vivo e cammina con noi. È in sintesi il messaggio sottolineato dal Papa Allangelus. Gesù non vuole essere un protagonista della storia ma vuole essere protagonista del tuo oggi, del mio oggi. Non un profeta lontano, vuole essere il Dio del presente. Se fosse solo un personaggio storico imitarlo oggi sarebbe impossibile. Ci troveremmo davanti al grande fossato del tempo, soprattutto di fronte al suo modello che è come una montagna altissima, irraggiungibile. Invece Gesù è vivo, Gesù è al nostro fianco. La sua parola e la sua grazia, prosegue Francesco, ci accompagnano nei sentieri più difficili. Nella vita dunque non siamo soli. Non scorreggiamoci. Se a volte la cima della vita cristiana sembra troppo alta e la via troppo ripida, guardiamo a Gesù che cammina accanto a noi, che accoglie le nostre fragilità, che condivide i nostri sforzi e appoggia sulle nostre spalle debole il suo bracchio saldo gentile. Il Papa conclude proponendo una sorta di esame di coscienza. Gesù vive con me e il mio Signore. Io mi affido a Lui nei momenti di difficoltà. Coltivo la sua presenza attraverso la parola, attraverso i sacramenti. Mi lascio guidare da Lui insieme ai miei fratelli e sorelle della comunità. Al termine dell'Angelus, l'invito a pregare per il prossimo viaggio in Mongolia, dal 31 agosto al 4 settembre, e per le vittime di Grecia e Ucraina. Per le vittime degli incendi rivambanti in questi giorni nel nord-est della Grecia. Restiamo sempre vicini anche al popolo ucraino che soffre per la guerra e soffre tanto. Non dimentichiamo l'Ucraina. Torniamo sul nostro territorio. Luto a Carro è mancata Lucia Medone, priore della locale confraternita. Aveva 81 anni. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 29 agosto, alle 16 nella chiesa parocchiale di San Lorenzo di Carro. E concerto di fine estate sabato sera per il corpo bandistico Città di Lavagna. Quest'anno piazza della Libertà gremita di residenti e di turisti. La presenza di tanti ragazzi rende più giovane il gruppo che quest'anno ha compiuto 170 anni di attività. Vediamo com'è andata. Tributo ad Ennio Morricone in piazza Lavagna. Il corpo bandistico ha proposto una selezione di brani del grande maestro, non solo western, in chiusura della stagione estiva. Ci ha fatto molto piacere rivedere finalmente la piazza piena dopo delle stagioni estive un po' sotto tono. Anche per noi è entusiasmante suonare, tornare in piazza. Poi questi programmi musicali in particolare ci stimolano in modo particolare a studiare e a proporre sempre cose nuove. Oltre alle colonne sonore più famose sono stati proposti i brani meno conosciuti di Morricone come pezzi di nicchia di film francesi degli anni 70. Il colpo d'occhio sui musicisti mostra un'interessante presenza di giovani. Futuro della banda, futuro della musica. Il corpo bandistico lavagnese a 170 anni è stato fondato il primo giugno 1853 e da allora, senza mai sciogliersi, ha continuato la sua attività spesso distinguendosi sul territorio e non solo, per originalità e versatilità. Andando ben oltre la semplice definizione di banda, il gruppo tornerà ad esibirsi questo fine settimana. Saremo il contorno a un gruppo pop che si chiama Le Bimbe di Erode e faremo appunto una serata tutta dedicata al pop italiano. 20 canzoni insieme a loro qua su questa piazza sabato 2 settembre. Stiamo a parlare di musica e le voci del tigulio Kids Coir di Rappallo, ex piccolo coro emiliani, da il via al decimo anno di tipità e la ricerca di nuovi bambini tra i 4 e i 10 anni che vogliono far parte di un'attività dal carattere fresco e dinamico con forti inclinazioni al sociale. Sono aperte le pre-iscrizioni per l'anno corale. Il decimo anno di attività è prevista la realizzazione di un progetto musicale inedito che coinvolgerà trasversalmente tutte le età. L'attività è ospitata nei locali dell'ANMIG di Rappallo, in passo Santa Chiara 1, a fianco all'auditorium delle Clarisse. Per informazioni è possibile scrivere su WhatsApp o chiamare il numero 320-4946-646. E record di partecipanti ben 414 per le mini Olimpiadi che si sono svolte come tradizione a Santo Stefano Davito nella seconda e terza settimana di agosto. Sono durate dieci giorni 19 le discipline sportive nelle quali si sono cimentati i giovani e i giovani insiminati tra il 2017 e il 2009. Quest'anno spazio anche i grandi che sono stati inseriti nella categoria senior che si è affiancata a quella dei piccoli, mini e junior. Proprio nella categoria senior il Panathlon Liguria in occasione della cerimonia di premiazione che si è svolta lo scorso 18 agosto ha voluto consegnare un riconoscimento alla signora Angela Berruti classe 1939, la vediamo in foto, che ha preso parte alle gare di freccette e calcio balilla. Per lei la Coppa Fair Play, la premiazione con i ragazzi, i bambini, i parenti si è svolta con il massimo di entusiasmo e di allegria. Riesciamo a parlare di giovani perché sono partiti questa mattina alla volta di Roma, i Cresimati della diocesi di Chiavari, un viaggio che li porterà a incontrare anche il Papa Francesco nella giornata di mercoledì, ma ci racconta tutto su come sta andando questo viaggio verso la capitale. Don Luca Sardella, a te Luca, buongiorno, come sta andando? Grazie Andrea, un saluto a tutti, ci troviamo proprio alle porte di Roma, in prossimità di Civitavecchia, il gruppo è partito questa mattina dalle varie zone della nostra diocesi, ci siamo lasciati, a dire il vero, il maltempo alle spalle, qui come vedete splende il sole, c'è anche una temperatura piuttosto gradevole, chissà che cosa ci riserverà però la serata, danno una situazione meteorologica in peggioramento, ma non ci scoraggiamo, soprattutto non si scoraggiano i 250 partecipanti all'edizione, alla decima edizione del pellegrinaggio diocesano dei Cresimati proprio qui a Roma, oggi l'avvio e ci sarà già il primo momento ufficiale alle ore 15 nella Basilica di San Pietro con un momento di preghiera e il rinnovo della professione di fede sulla tomba dell'Apostolo Pietro. Vicino a me c'è la prima iscritta al pellegrinaggio diocesano, si chiama Beatrice, arriva da Santa Margherita Ligure, ciao Beatrice. Ciao. Allora tu hai un primato in questa edizione perché sei stata la prima ufficialmente iscritta all'edizione, la prima ragazza che ha scelto di partecipare a questo appuntamento, perché proprio questo entusiasmo ti ha spinta ad aderire subito a partecipare a questo appuntamento? Allora, sinceramente mi è interessato molto partecipare a questo pellegrinaggio per fare una nuova esperienza, conoscere anche nuove realtà, infatti anche nuovi ragazzi, siccome poi anche quegli anni del Covid non avevo avuto molto modo di conoscere nuovi ragazzi in nuove parrocchie e già nel viaggio in pulma ho conosciuto diversi ragazzi, ad esempio della parrocchia di Rapallo e niente, abbiamo fatto, quindi questo è un motivo per cui ho deciso anche di partecipare e comunque anche per l'esperienza di venire qua e l'esperienza del pellegrinaggio che non avevo mai fatto. Come dicevi Beatrice, c'è l'esperienza diocesana che in qualche modo fa conoscere tanti ragazzi che condividono un cammino di vita e di fede nelle nostre realtà parrocchiali, nella nostra diocesi. Questa sera alle ore 19 ci sarà la prima testimonianza con Arturo Mariani e poi tutti i racconti anche che raccoglieremo in queste giornate sempre qui su Telepace, quindi appuntamento anche a questa sera. Linea allo studio. Grazie Luca, buon viaggio, buon proseguimento per uno pellegrinaggio che sta per entrare nel vivo. Ce n'è già un altro appuntamento in programma, questa volta il prossimo 30 settembre in piazza San Pietro la veglia ecumenica di preghiera Together il raduno del popolo di Dio. Papa Francesco ha invitato i fratelli e sorelle di tutte le confessioni cristiane a fidare a Dio i lavori della XVI Assemblea Generale Ordinario del Sinodo dei Vescovi. L'iniziativa rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni provenienti da tutta Europa al servizio diocesano di pastorale giovanile della diocesi di Chiavari si sta attivando per partecipare. La partenza sarà sabato 30 settembre al mattino in treno da Chiavari. La veglia in piazza San Pietro presieduta dal Papa è prevista alle 17 il rientro il giorno seguente in serata. Le iscrizioni quindi sono già aperte. Sua notizia pubblicata sul nostro sito si trova anche il link dove poter appunto ufficializzare la propria iscrizione. Linea adesso la rassegna stampa vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi ci rivediamo per altri aggiornamenti. Prima pagina del secolo XIX Meloni priorità a chi ha figli oggi il primo confronto nel governo sulla manovra le indicazioni della Premier ai ministri fate solo proposte realistiche il paradosso del PNRR boom di appalti per i comuni ma i fondi saranno dirottati su altri progetti. Più sotto prezzi stabili e comfort vacanze in crociera per un milione di italiani record dunque di passeggeri nel 2023 la fotonotizia ci parla di sport l'impresa del Genoa la prima vittoria è firmata a Rettegui i rosso-blu superano 1-0 la Lazio all'Olimpico e poi Mancini ct dell'Arabia voglio fare dice la storia anche qui all'interno del giornale sull'Elevante nubi fragio e allagamenti a Rapallo rubinetti a secco in Val Fontana Buona Sant'Anna albero abbattuto da un fulmine traffico deviato a Cicagna invece la vasca di accumulo si è svuotata niente acqua oggi prevista una forte mareggiata più sotto festa della Madonna di Guadalupe il meteo cancella la messa in vetta al monte Maggiorasca dove i fedeli erano già arrivati all'interno del giornale Cicagna Branco di Lupi doppia incursione sbranati otto pecore un daino cinque esemplari si sono spinti nell'agriturismo la Novellina e in un'azienda agricola Fontanina più sotto la cronaca Rapallo cartoleria va a fuoco ipotesi cortocircuito i danni sono ingenti e la bonifica è durata sette ore l'arte di suonare le campane e reportage del secolo affascina anche i giovanissimi protagonisti delle feste patronali custodi di antiche tradizioni sono autentici musicisti il punto sul turismo più stranieri meno italiani boom di presenze ad agosto negli hotel occupazione media del 95% e pienone di ospiti americani infine lo sport del Levante si concentra sulla storia della famiglia Braschi una famiglia da generazioni in lotta continua per sport Stefano figlio di Giuseppe fratello di Ivan padre di Thomas e Veronica sono tutti atleti ritroviamo Maurizio in redazione per gli aggiornamenti a te la linea grazie Andrea un saluto a tutti la cronaca i carabinieri di Genova nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio durante il fine settimana hanno identificato oltre 150 persone e controllato 60 veicoli questo per prevenire incidenti stradali le cosiddette stragi del sabato sera in tutto sono stati denunciati quattro conducenti sorpresi a guidare in stato di abbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti c'è stato poi un intervento dei carabinieri nell'entroterra di Carasco a causa del comportamento di un cinquantenne residente a Chiavari in evidente stato di ubriachezza stava infastidendo gli avventori di un ristorante della zona e quindi si è reso necessario l'intervento dei militari a loro arrivo tuttavia il suo atteggiamento non è cambiato anzi si è mostrato stile ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza al controllo l'uomo è stato allontanato dal locale denunciato per resistenza pubblico ufficiale a te la linea ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale l'informazione torna questa sera 19.15 l'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per la visione